GF VIP 7, e scontro tra Edoardo Donnamaria e Attilio Chisbotta, sei l'avvocato delle cause perse di Antonella Fiordelisi. Ancora polemiche nella casa del GF VIP per l'armadio Gate. Attilio Romita, dopo aver preso le difese di Daniele Dal Moro, si è scontrato con Edoardo Donnamaria. Al volto di Forum non erano andate giù i termini utilizzati dal giornalista nei confronti dell'influencer campana. Nonostante siano passati ormai diversi giorni e Daniele Dal Moro sia risultato il preferito dal pubblico. Diversamente da quanto la Fiordelisi aveva auspicato, Edoardo Donnamaria si è voluto togliere un sassolino dalle scarpe. Come riportato da Bicit, il volto di Forum si è scagliato contro Attilio. Stai attento alle percezioni che le persone al di fuori hanno di te. Non puoi etichettare Antonella come la ragazzetta di Instagram. Sto difendendo un principio perché qua stanno dicendo che le persone che hanno successo possono parlare e le altre no. Daniele non si merita da una ragazza, né da nessuno, di essere maltrattato perché è un bravo ragazzo. A me dà fastidio il modo con cui hai affrontato il tema dell'anta dell'armadio. Lo hai fatto da capopopolo, ma non hai alcuna autorità. Voi due, tu ed Edoardo, vi siete comportati come dei selvaggi. Voi due, tu ed Edoardo, vi siete comportati come dei selvaggi. Grazie. 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 Grazie.